ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi con poca voce ma comunque sia apriamo insieme la blessing box del mese di marzo che sapete che la collaborazione dell'anno e quindi apriamo queste box misteriose che oltretutto è ancora chiusa quindi la scopriamo assieme che viene questa è dalla francia quindi 16,90 più della spedizione 20 euro in totale vediamo se l'importo può valere 20 euro è arrivato anche in italia questo servizio da blissim italia ma attualmente vedo che ha i prodotti diversi e non mi hanno contattato quindi non ne sto neanche a percepire tanto tempo però ho notato se volete fare un riscontro che ha dei prodotti diversi rispetto alla francia io sto collaborando con blissim francia che è quella ed è originale dove è nata e quindi guardiamo queste oltretutto ho lo sconto per voi ma guardate sempre di fu box perché ci sono sempre gli sconti aggiornati con i codici andiamo ad aprire la box del mese che oltretutto è disponibile per l'acquisto anche con senza abbonamento quindi solo la box sempre senza abbonamento ci sono anche le box dei mesi passati nel caso uno volesse quel tipo di box e basta mi piace molto che sia tutta con trifogli quadrifogli ed è dedicata alla solidarietà femminile il mese della solidarietà femminile ci piace ok è solo un flyer così con il QR code da scaricare per i vari prodotti mi piace e questa è la box e andiamo a vedere un po i prodotti prenderei prima il più grande che è questo ok oltre al più grande e di questo posto devo parlare perché mi hanno un fatto che faccio vedere questo è il cadì e shampoo neem balance purificante antiforfora e full size da 200 ml è questo qui e oltretutto è un prodotto naturale esatto naturale non so se già aperto per dirvi profumo è forte ma comunque un antiforfora dovrebbe essere benessere sollievo per il cuoio capelluto con plurito e forfora ok e mi hanno chiesto in questo caso quindi penso che anche con le abbonamenti ci sia tipo un quiz da compilare per il prodotto più adatto il tipo di capelli che poteva essere non mi ricordo doveva essere grassi ricci e qualcos'altro comunque sia e il prodotto veniva inviato in base alla tipologia di capelli e ovviamente pronto per il capelli ricci non ne andava bene quindi ammalato a questo purificante oltretutto full size e mi piace forse è poi sensibile questo potrebbe essere ok comunque questo lo provo e vi saprò dire quindi ecco quello che vuol dirvi anche che ci sono dei questionari oppure la scelta dei prodotti a volte nel mio mese quando ce ne sono diversi dello stesso marchio in cui poter scegliere quindi sono anche prodotti più adatti alle proprie tipologie adesso ne vedo 4 e andiamo con questo il primo di qui ok e questa è una mini size da 20 ml ma ci piace perché io comunque le metto è chiusa le metto sulla postazione make up e queste le uso sempre le mini size di borsa postazione scrivania le uso sempre semplissimo ma io stavo andando a vedere perché a questo punto mi è venuto il dubbio che lo shampoo potesse ecco infatti questo shampoo qui solo lui viene 15 euro 14,95 consideriamo la box che viene 20 euro di tutto pensavo che infatti un full size ci potesse essere un buon prodotto teniamolo qui la crema mani andiamo avanti e andiamo avanti con questo che è una mini size Mario Badescu però 59 ml glicolic forming cleanser quindi un detergente per il viso all'acido glicolico è una travel size perché 59 facciamo 60 ml e questo ci piace ci piace da provare carino ed è vediamo cosa può dire detergente schiuma l'acido glicolico ebbene l'avevo detto anch'io fino a qui vediamo se nelle istruzioni c'è qualcos'altro ok sono le istruzioni va bene allora ricostituire perfezionare la pelle e svelare una carnagione più luminosa ed è attualità regolare ok una volta che avete letto le istruzioni e ricompattate tutta l'etichetta ed è fatto andiamo oh non l'avevo visto cloran maschera in stick cosa dice purificante allora io adoro le maschere in stick ed erano uscite quelle di essence poi royal beauty insomma marche abbastanza economici però le maschere in stick secondo me sono fantastiche da applicare velocemente e oltretutto non sono liquide vanno bene anche in viaggio allora 25 grammi questa è purificante con purificante e mattificante lasciare agire 5-20 minuti perché ha l'argilla sto cercando di aprirla eccola qua è fatta in questo modo quindi viene proprio in stick come un dodorante si applica sul viso si lascia agire un pochino è molto fresca ha un profumo fresco si lascia agire e poi dopo si rimuove come le classiche maschere in argilla mi piacciono queste stick sono fantastiche soprattutto da utilizzare più volte alla settimana e stavo guardando perché ho qui il flyer che la maschera viene anche le 14,95 euro e allora scusate cioè già due prodotti hanno più che ripagato la box e ora veniamo con l'ultimo prodotto rimetto dentro tutto dei make up in queste box c'è sempre poco c'è poco make up ma sono box dedicate più che altro alla skin care o comunque alla cura del viso e del corpo di make up per essere inclusivi con tutti mettono pochi prodotti e adatti a tutte ci sono box di altri marchi che hanno più make up e meno skin care dovrei scegliere anche in base alle esigenze ma adesso andiamo a noi blue shade ok beauty first skin come? che cos'è? made in france apriamolo scusate apriamolo a questo punto perché non so cos'è un mascara un mascara full size sicuramente però non ha scritto niente me lo vado a leggere non c'è neanche scritto niente devo andare a scaricare il QR code pausa allora sono andata a vedere sì è un mascara è un full size da 8 ml eccolo qua è infuso con oli idratanti mascara nero ma soprattutto ha un effetto allungante volumizzante quindi anche aiuta a riparare le ciglia e fortificarle ma la cosa particolare e importante attenzione listino 32 euro quindi solo il mascara supera il valore della box direi che è ottimo allora facciamo un recap dei prodotti per una box da 20 euro mascara che abbiamo detto che è 32 euro la metto subito sotto test sapete che maschera viso della cloran in stick che sono curiosissima di provare subito shampoo per i capelli di cadì cadì direi full spice full size purificante travel size di Mario Badescu glicolic full mint cleanser che mi piace e crema mani mini size da 20 ml crema mani con aloe vera e burro di karité carina la confezione sicuramente allora questa box tutta mi è piaciuta mi è piaciuta per il valore dei prodotti mi è piaciuta perché sono prodotti che utilizzo sicuramente e sì sì super soddisfatta per adesso questa collaborazione non mi sta affatto deludendo poi anche le box sono deliziose vi rifaccio vedere questa con tutti i trifogli è deliziosa anche da tenere da fare un pacchettino regalo molto carina e niente questa era tutta la box vi ricordo che nelle infobox ci sono sempre i codici sconto per avere i prodotti scontati e sono sempre utili questi sconti niente io vi do appuntamento al prossimo video ma fatemi sapere anche quali prodotti vi interessano vi curiosiscono quali magari avete già provato quali vi piacerebbe provare il mascara lo metto subito sotto test quello escludiamolo perché arriverà a breve e niente vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao